Cari telespettatori, ben ritornati in nostra compagnia e riprendiamo costantemente il capitolo dedicato al mondo dei pensionati e degli anziani. Lo facciamo, sappiamo che ci sono state più istanze richieste da parte di molti di voi, anche corretto, a alcuni si è detto se ci abbandonate come lo fa il governo, no, non vi abbandoniamo e non lo fanno neanche il sindacato dei pensionati assolutamente, anzi stanno lavorando intensamente per portare a termine dei progetti per cercare di ottenere qualche cosa. Vero è che moltissimi anziani si sentono tra virgolette bistrattati, insomma trattati male come le ultime ruote del carro o coloro dei quali si va per mungere, per ottenere il più possibile, per dare ben poco in contraccambio. Situazione difficilissima a livello nazionale, vedremo anche di capire cosa sta succedendo e che cosa si preparano a fare i sindacati a livello unitario, adesso capirete anche perché, ma anche a livello della regione del Veneto. Che cosa sta succedendo, che cosa non è successo, che ci si aspettava? Parliamo di anziani, persone in difficoltà, con pensione che sapete per un percentuale altissimo è molto bassa, sotto i 750 euro per circa 6 anziani su 10, che si trovano in molti casi anche a non essere autosufficienti, quindi aver bisogno del supporto della famiglia da un lato, dove questa può intervenire, ma soprattutto delle strutture sociosanitarie dall'altro. Ma il sistema sociosanitario è strutturato in modo tale da poter intervenire in modo efficace e la sanità del Veneto, che ha fatto delle riforme importantissime, prima in Italia per certi interventi, ha realizzato tutti i paletti per poter dare dei supporti importanti, tanto prima quanto dopo, alla persona che sta male, quando si vogliono sgravare delle strutture di certo tipo di ricorso continuo, facciamo l'esempio dei pronti soccorsi, si va da altre parti, ma dove si va? Moltissimi ci hanno chiesto di dare lumi al riguardo e di parlare anche, e il sindacato è stato il primo che ha tirato fuori l'argomento, e anche tanti di voi ci hanno sollecitato, del discorso dei ticket, che sembrano aumentare ed essere richiesti per tutto, insomma una sanità che pare essere, e anche un sistema sociosanitario, sempre più a carico del privato cittadino. Protagonisti di interventi importanti e di movimentazione anche sono i sindacati a livello unitario, quindi Spicigelle del Veneto, Rita Turati, segretaria generale regionale, ben ritornata qui con noi, a riaprire le varie parentesi su questi argomenti di sensibilizzazione importantissimo. Accanto a lei abbiamo un medico di famiglia, medico di medicina generale, che è il dottor Mauro Loison, grazie di essere qui con noi, e avrà un ruolo importante per spiegare ai nostri telespettatori, ma anche per entrare un po' nel dialogo di che cosa devono fare e cosa si aspettano anche i medici di famiglia, quindi vedremo di capire meglio. Ben arrivata anche qui con noi la dottoressa Laura Traversi, assistente sociale, consigliera dell'ordine regionale degli assistenti sociali, piano sociosanitario ci siete in mezzo anche voi, grazie. Ben ritornato anche Adolfo Berti, segretario generale FNP CISL, regionale anche a lei, grazie segretario, e Walter Sperotto, segretario regionale Wilp Wil dei pensionati, grazie. Allora, evento eccezionale, tre sindacati unitari tornano in forze per dire che cosa, e cominciamo, onora le signore, quindi SPCGL in primis con ritaturati, vediamo di spiegare a che punto siamo, perché forse, sì, ho capito che tanti pensionati non hanno bene più in mano la situazione, non capiscono cosa sta succedendo. Non capiscono cosa sta succedendo, ma capiscono perfettamente che stanno vivendo una fase estremamente complicata per una serie di ragioni, perché io penso che mai come in questo periodo abbiamo avuto, diciamo così, degli atteggiamenti da parte di chi ci ha governato negativi nei confronti dei pensionati, quasi fossimo considerati come dei privilegiati perché godiamo di una pensione, di un reddito certo, a parte che il reddito certo ormai non è più neanche la pensione, come sappiamo, nel senso che nel corso di questi anni ha perso clamorosamente di potere d'acquisto per gli interventi appunto che si sono succeduti a partire dalla legge Fornero e perché non c'è stata una rivalutazione dal punto di vista economico del valore appunto della pensione e perché con tutti i tagli lineari che si sono susseguiti nel corso di questi, da quando è iniziata la crisi praticamente, cioè abbiamo accumulato circa 75 miliardi di tagli sul sistema pubblico e adesso di nuovo con la presentazione della legge di stabilità, siamo di fronte ad altri 15 miliardi complessivamente di cui 4 le regioni e di conseguenza, come abbiamo già denunciato in più di un'occasione, questi tagli che avvengono alla spesa pubblica considerata improduttiva purtroppo e in parte lo è certamente ma non si risolve il problema della produttività della spesa pubblica tagliando in modo omogeneo a tutti i settori ma andando a colpire insomma là dove c'è l'improduttività, la corruzione come abbiamo detto in più occasioni, ebbene questa modalità di intervenire e di ridurre il perimetro pubblico della spesa sta incidendo fortemente sulla capacità di dare servizi, di dare servizi di qualità poi ai cittadini, di garantire quindi di conseguenza il diritto della salute. Quindi questa mattina abbiamo fatto i tre direttivi unitari e questo è un evento secondo noi estremamente importante perché nonostante le difficoltà che oggi esistono come sappiamo insomma fra le tre confederazioni a livello nazionale, non tanto guardate sul merito, poi non avremo tempo oggi di parlarne, penso piuttosto sull'atteggiamento da assumere nei confronti delle cose che non ci stanno bene e che il governo sta decidendo via via senza nessun confronto con le parti sociali. Ma però ha detto che non gli interessa, ha detto chiaramente che non sono le piazze che fermeranno. Nonostante questo noi appunto stiamo mantenendo un rapporto stretto dal punto di vista unitario sia a livello nazionale per l'avvertenza di cui parlavo prima, ma anche a livello regionale perché lo stesso atteggiamento in un qualche modo l'ha assunto anche la giunta Zaia perché sono mesi e mesi che non abbiamo confronti rispetto a quello che sta avvenendo nei singoli territori, nelle aziende sanitarie in termini di servizi erogati, stiamo chiedendo incontri, ne abbiamo finalmente avuto uno la settimana scorsa con il nuovo assessore che benissimo per carità però non ha la dimensione, è nuovo del settore, ha bisogno di capire e la giunta Zaia ovviamente come molte altre regioni si ritrova alla vigilia di una campagna territoriale. Quindi voi avete paura da questo punto di vista? Abbiamo paura e che non succeda niente, che quindi si concluda una legislatura lasciando vuota invece una delle leggi che noi consideriamo fra le migliori che sono state fatte in questa regione che sarebbe stato un formidabile strumento di programmazione che è la legge sulla non autosufficienza che a tuttora è disattesa. Queste due cose insieme appunto a un percorso nazionale come dicevo prima che stiamo iniziando e inizieremo il 5 di novembre come SPF e FNPU nazionali con le tre assemblee, una a Milano, una a Roma e una a Palermo, sono le due cose su cui abbiamo fatto una bella discussione questa mattina nei tre direttivi unitari. Ecco, chiedeva lei Sperotto perché a livello unitario quindi insomma condividete un percorso. Siamo arrivati a un punto critico, voi ve l'aspettavate dal governo una posizione di questo tipo? Beh, francamente no. Ci aspettavamo una maggiore attenzione, anche se dobbiamo sottolineare che i problemi in Italia sono estremamente gravi. È grave come la situazione occupazionale, è grave la situazione industriale che non riesce a decollare, è grave la situazione sul piano sociale perché c'è un progressivo impoverimento della società e in modo particolare i pensionati sono quelli più colpiti in ragione dei bassi redditi. Di cosa siamo impegnati noi sia a livello nazionale piuttosto che a livello regionale? A livello nazionale siamo impegnati da una parte a sostenere le condizioni più debole e d'altra parte a evitare la caduta di un gran numero di pensionati in povertà. Che già ci sono, che già sono già caduti. Dobbiamo evitare che ci siano gli altri che cascano in povertà. Ed altronde questo fatto della povertà è significativo sul versante della sanità. Noi abbiamo avuto una caduta dell'utilizzo della sanità privata pari a 2 miliardi solo nel 2013. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una parte dei cittadini che rinuncia a curarsi e questo è un dato estremamente grave. Con ulteriore problema con la caduta complessiva dei redditi familiari e individuali all'interno delle famiglie. Questo è il quadro sul piano sociale in cui dobbiamo affrontare. Le soluzioni proposte è evidente che non ci possono trovare concordi perché sono ipotesi di soluzione che in qualche modo prevedono che sulla base di alcuni incentivi si dovrebbe riprendere le occupazioni, si dovrebbe riprendere l'insieme delle attività economiche e ripartire dello sviluppo. Io penso come dire che impoverendo la gente e riducendo i diritti alle persone o le tutele alle persone non sia come dire un buon viatico perché tutte le politiche fatte in questa direzione sono politiche che hanno fallito. Anzi ormai sta diventando un circolo vizioso in cui si taglia da una parte, si pensa che si riparte invece come dire si deprime la domanda e via via dicendo. Cioè sostanzialmente il circolo ti riporta sempre più in basso. Abbiamo bisogno veramente di politiche che abbiano attenzione alle persone e che siano capaci di far risalire l'economia. Chiedo anche a lei Berti, ma pare possibile, a questo muto un po' delle mail che sono arrivate parecchio numerose anche a corso di questa estate e quindi cerchiamo un po' di condensarle per dare delle risposte ai nostri telespettatori, pare possibile che si sia preso di mira veramente come diceva Ritaturati proprio la categoria dei più deboli, cioè dei pensionati e tra l'altro non quelli benestanti perché le pensioni cosiddette d'oro in un modo o nell'altro non vengono toccate, non sono state toccate, sappiamo che ci sono addirittura delle leggi ad hoc che vanno a tutelarle, ma proprio una massa che continua ad essere messa in serie difficoltà come le famiglie di appartenenza, perché questo cittadino non riesce veramente a capirlo, perché non si agisca da altre parti ma si va a colpire questo, si va a depredare proprio le persone, questo lo dicono, lo si legge anche con tantissima amarezza, con degli esempi che a me hanno toccato tantissimo, li stavo rileggendo prima della trasmissione proprio per ricordarmi certe parole, però sono pesanti. Sì, credo che questa è una domanda che ci facciamo tutti, credo che ognuno di noi ha una risposta anche diversa probabilmente, quello che secondo noi a questo punto possiamo dire rispetto a questo atteggiamento del governo è che sicuramente il calcolo che fa il governo è un calcolo di tipo economico, nel senso che andando a mettere le mani su una massa così grande di cittadini probabilmente dal punto di vista economico i risultati sono probabilmente più soddisfacenti. sta di fatto che questo dimostra una cosa però in maniera molto chiara, che non c'è attenzione alla persona, che non c'è attenzione soprattutto a quella parte della società che ormai è sempre più grande, questa parte delle società, che arranca ormai da tantissimo tempo. E guardate, quello che sta facendo il governo Renzi non è che la continuità di quello che hanno fatto i governi precedenti, perché i pensionati sono sempre stati maltrattati da tutti i governi che sono passati, a partire se volete da Berlusconi, Monti, Letta e poi Renzi, quindi diventa abbastanza difficile capire perché ci si accanisce su una categoria così, senza contare poi che rispetto alle questioni che ci riguardano ci sono sicuramente la quantità di risorse che vengono date alle pensioni. Ma questo, come diceva il collega prima, determina una serie di questioni che diventano dal punto di vista sociale, ma anche socio-sanitario, insostenibili. Per capirci, la povertà spesso induce a situazioni disastrose anche dal punto di vista, se volete, sociale e psicologico, perché la povertà potrebbe diventare l'anticamera della depressione, della solitudine, compagnia bella e quindi portare anche malattie per essere tanti e non autosufficienza e qui c'è tutto il problema della non autosufficienza sul quale magari se abbiamo fatto un problema... No, no, adesso questo sarà il tema determinante assolutamente. Ecco, era proprio per inquadrare, per dare anche delle risposte a quanti non trovano delle spiegazioni ed è anche corretto darle. che cosa, secondo voi, a livello unitario, vi sarete senza dubbio anche confrontati in merito, che cosa è possibile fare? C'è una manifestazione come c'è stata a Roma del sindacato, no? Per esempio. E si sorride però... No, mi sorrido perché era della CGL quando dicevo prima che appunto abbiamo le stesse su quasi tutto, sicuramente sulla legge di stabilità, leggevo anche stamattina, le posizioni sono analoghe fra le tre organizzazioni sindacali. Abbiamo appunto modalità diverse nel reagire. Ecco, dobbiamo... Esatto, esatto, però quella è la questione, quella è la questione. Cioè, la cosa che... La gente dice rivoluzione, non ha la parola che vedo che ricorre tutti, se prendete mail che ci arrivano, sms, c'è sempre rivoluzione a parole, però nei fatti vuol dire rabbia che si deve in qualche modo sfogare. Voi ne pensate diversamente sulla possibilità di far qualcosa, infatti che cosa pensate potrebbe essere fatto se è a livello unitario, se invece l'FNP la pensa diversamente, la Wilp, che cosa... perché poi la gente dice ma che cosa farete per risolvere questo problema, visto che il governo... No, guarda, io penso questo, l'abbiamo detto in parte anche oggi, insomma, che stare fermi non serve a nessuno, perché tanto loro decidono a livello governativo, abbiamo visto poi non solo la continuità dal punto di vista delle scelte politiche, come diceva bene Berti prima, ma c'è anche, diciamo così, un intensificarsi nella modalità con cui vengono prese le scelte a livello nazionale che a me spaventano molto, perché non c'è più dibattito, si stanno svuotando tutti i luoghi della democrazia, non sono le parti sociali, le organizzazioni sindacali in questo caso, non vengono ascoltate su temi importantissimi, pensa per esempio al Jobat, non voglio entrare nel merito, ma dico, modificano le regole del lavoro, noi siamo gli unici che rappresentano il lavoro e non veniamo ascoltati, e viene votato col voto di fiducia in Parlamento, capito? Ma questo vale per qualsiasi cosa, come quando appunto si è deciso di cambiare la legge sulla previdenza, anche lì con dei voti di fiducia in Parlamento. Allora questo non va assolutamente bene, io penso che se al momento sulle forme di mobilitazione c'è un momento di sospensione, mettiamola così, io auspico, perché quando si è divisi si perde, e questo vale per tutti. Anche la strategia è far dividere. La strategia è far dividere, ma tutto, se pensi al bonus bebè tagliano 100 miliardi sulla non autosufficienza che ormai era ridotta, sul finanziamento, la non autosufficienza che ormai era ridotta al lumicino, che appunto allontanerà ancora di più e renderà e manderà in solitudine, in sofferenza ancora di più moltissime persone, e sulla SLA, perché il fondo era unico, e però danno il fondo bebè, che va benissimo, io non voglio mica mettermi in contrapposizione, ma non c'è una misura organica, strutturata, che abbia un'idea rispetto alla prospettiva sul tema della povertà, ad esempio, sulle politiche sociali. Ecco, allora che cosa fare? Che cosa fare? Io penso che noi dovremmo organizzarci meglio per far cambiare agenda politica a questo governo e ai governi in generale. Cioè, io penso che non possiamo subire senza reagire, che va bene fare lobby, è una delle cose che abbiamo fatto anche nei mesi scorsi e continueremo a farlo, penso, come organizzazioni dei sindacali confederali, ma anche dei pensionati, è quello di incontrare chi è stato eletto nel territorio per dire attenzione, perché le elezioni ce ne saranno tante, ci sono quelle regionali, ci saranno di nuovo quelle politiche e a seconda degli atteggiamenti che voi assumerete rispetto alle politiche che ci riguardano, ci comporteremo di conseguenza, ma non basta un atteggiamento di lobby. Bisogna che appunto le persone vengano coinvolte, dobbiamo ricominciare a mettere in moto un processo partecipativo e di allargamento anche, diciamo così, delle di coinvolgimento, sì, delle nostre rappresentanze di base in un qualche modo, no? Cioè, infatti oggi, per esempio, che si parla e sempre noi quando veniamo coinvolti in trasmissioni come questa, ci piace l'idea, insomma, di coinvolgere direttamente gli operatori, che non sono nostri avversari, perché penso che poi... No, senza non si riesce a combinare niente. Appunto, cioè tu non puoi fare nessun tipo di riforma, nessun miglioramento al sistema, al modello sociale, se lo fai contro, contro i pensionati, contro i dipendenti pubblici, se non li coinvolgi e se li consideri appunto come una minaccia, un costo, eccetera, eccetera. Quindi, la prima cosa è appunto quella di informare, come abbiamo appunto deciso sui nostri temi, la piattaforma Volantini, eccetera, assemblea, tornare nei territori e tornare a far conoscere. Questa è la prima cosa. Se poi non ci saranno risposte, ci metteremo d'accordo. Per esempio, nell'ordine del giorno di cui abbiamo discusso, c'è che se non ci saranno risposte concrete, non ci basta più solo gli incontri. Bisogna che in quegli incontri ci vengano date anche delle risposte concrete. Se non ci vengano date, le assemblee, la mobilitazione e qualcosa altro da poter provare ad organizzare. Cosa che può dar fastidio, sostanzialmente. Quindi, parliamo di questo. Poi entriamo adesso nel merito, dopo la pubblicità, ancora più della questione. Quindi, parlavamo di difficoltà delle persone, non autosufficienza e la questione della regione del Veneto è estremamente importante. Di che cosa si tratta, Steph? Ve lo spieghiamo dopo la pubblicità, perché sappiamo, abbiamo capito, che non tutti sanno nel merito. Quindi vogliamo rendervi partecipi bene dei contenuti di questa legge sull'autosufficienza, perché gli addetti, tra virgolette, i lavori, che sono le parti sociali, i sindacati, lo sanno benissimo e ci stanno lavorando, anche i medici, gli assistenti sociali, gli operatori, ma molti cittadini sanno soltanto cosa devono pagare, cosa possono ottenere o cosa non possono ottenere. Vediamo di spiegarlo bene. Pubblicità tra pochi secondi.